I lavori per il rifacimento dell'asfalto da come ci dicono i residenti sono iniziati da pochi giorni. La ditta incaricata ha provveduto ad asfaltare gran parte della via lasciando il tratto finale di collegamento con la statale adriatica non terminato. Le segnalazioni giungono proprio dai residenti che osservando l'andamento dei lavori lamentano l'interruzione insolita di quel preciso tratto di strada. Quando sono iniziati i lavori? Dunque i cartelli sono dalla settimana scorsa che ci sono e il lavoro l'hanno fatto ieri e stamattina ho visto che pensavamo tutti che il lavoro finisse e invece l'hanno lasciato così. Insomma per voi residenti è una forma di sconcerto? È un schifo e un po' pericoloso. Altra questione importante da come ci spiega un residente è la mancata pulizia della strada adiacente a Via dell'Arzilla da diverso tempo risulta essere abbandonata. Diceva signora che hanno fatto l'asfalto in un pezzo di strada e nell'altro no? No, laggiù hanno fatto le vie e dopo sono andate a reclamare, allora gli hanno fatto il pezzo. Ha detto Gesù stamattina, ha detto Flora, sono andata a reclamare, l'hanno fatta e dopo. Invece in questo pezzo di strada dove abita lei non è stato asfaltato? No, è così va. Io abito qui ma abbiamo bisogno anche noi, paghiamo le tasse come gli altri. Lei lamentava anche altri disguidi? Il scopino non viene mai, mi ha detto qui doveva lasciare, siccome si mettono sempre le macchine allora la signora chiede a quelle delle macchine di non metterle che vengo a pulire. Io pulisco, io dei balsini che io pulisco e pago. Capito? Non si sono mai visti? No, quando è l'estate vanno a balare, qui le macchine non si dorme, fino a mattina del 6 non si dorme. Cedono sempre, vanno giù, hanno le gomme qua su, quando arriviene su sono i briachi, bicchieri, bottiglie, tutto c'è. Quindi cosa chiede al sindaco? Che deve pulire e gli ha da fare i parcheggi, no sotto le finestre perché a dormire hanno diritto e noi vogliamo dormire.